carissimi pace buona giornata a tutti quanti voi dio benedica le vostre vite 26 gennaio 7 del mattino apriamo le nostre bibbie leggiamo nel libro del nell'epistola scusate gli ebrei al capitolo 13 il verso 14 e il verso 15 l'autore scrive perché non abbiamo qua giù una città stabile ma cerchiamo quella futura e per mezzo di gesù dunque offriamo continuamente a dio un sacrificio di lode cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome una città stabile una città che su questa terra non possiamo trovare perché i cieli e la terra attuale sono destinate al giudizio di dio e la bibbia parla infatti di nuovi cieli di nuova terra ed è lì che c'è questa città stabile che noi veniamo vediamo descritta nell'apocalisse una città che scende dal cielo su una città che viene posta su questa nuova terra una città il cui nome è la gerusalemme celeste e quella città sarà una città eterna appunto una città stabile una città dove quanti avranno su questa vita scelto di seguire servire amare dio potranno trovare cittadinanza ecco perché l'apostolo paolo diceva nello scrivere ai filippesi al capitolo 3 al verso 20 che la nostra cittadinanza è nei cieli è vero siamo su questa terra svolgiamo le attività di questa terra ed è giusto che sia così ma il nostro sguardo il nostro desiderio è volto verso quella città stabile quella città futura che vogliamo considerare come il luogo dove noi abiteremo per l'eternità ed è una città che nell'apocalisse viene descritta in modo figurato certo ma da quella descrizione capiamo che è una città meravigliosa gloriosa straordinaria nella quale verrà la pena abitarvi è una città dove dice giovanni nello scrivere la conclusione dell'apocalisse non c'è nessun tempio perché il signore il dio onnipotente e l'agnello cioè cristo gesù sono il suo tempio è una città che non ha bisogno di sole né di luna che le illumini perché la gloria di dio la illumina e l'agnello è la sua lampada è scritto che di giorno le sue porte non saranno chiuse e che la notte non ci sarà più e che in lei ci sarà la gloria e che nulla di impuro né chi commetta abominazioni o falsità vi entrerà ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello e allora cari vogliamo essere certi che il nostro nome è scritto nel libro della vita dell'agnello e questo è possibile semplicemente accettando gesù nella propria vita si tratta di andare a lui chiedere perdono per i propri peccati permettere alla sua grazia di cambiare la nostra vita i nostri sentimenti i nostri desideri e poi di perseverare lungo la strada della santificazione che dobbiamo cercare nella nostra vita della devozione e dell'amore verso il signore che deve essere amato prima di ogni cosa sopra di ogni cosa prima dei figli prima della famiglia prima del lavoro prima di tutto deve venire il signore è bella quella città è una città dove tutti coloro che vi abiteranno si troveranno bene in mezzo alla piazza della città continua l'autore dell'apocalisse e sulle due rive del fiume dell'acqua e della vita c'era l'albero della vita esso da 12 raccolti all'anno porta il suo frutto ogni mese le foglie sono per la guarigione delle nazioni e non ci sarà più nulla di maledetto e nella città ci sarà il trono di dio dell'agnello e i suoi servi lo serviranno e noi vedremo la sua faccia e porteremo il suo nome scritto sulla fronte e non avremo bisogno né di lampada né di luce né di sole perché come già abbiamo detto il signore dio illuminerà e regnerà nei secoli dei secoli sia benedetto il signore per questa città stabile per questo luogo dove noi potremo riposare lì non ci sarà né più pianto né più dolore né più morte né cordoglio né più malattia nulla di tutto quello che ci affligge su questa terra è proprio perché essa è il frutto del sacrificio di cristo ed è un luogo dove noi potremo andare ad abitare non per le nostre buone opere non perché avremo pagato un qualche obolo a qualcuno ma semplicemente perché avremo accettato cristo nella nostra vita vogliamo per mezzo di gesù offrire al signore un sacrificio di lodo ed è sono labbra che confessano il suo nome sì perché quando il nostro cuore veramente realizza ciò che la grazia determina nella vita della persona come possiamo rimanere in silenzio dinanzi a ciò che lui ci ha provveduto il nostro cuore non può che essere grato e dal nostro cuore non può che sgorgare una lode sincera verso il signore per dirgli grazie o dio perché tu hai fatto tutto ciò che era necessario affinché noi potessimo avere questa certezza nella nostra vita la bocca parla di ciò che il cuore abbonda e quando nel cuore c'è riconoscenza sulla bocca c'è riconoscenza e allora cari non risparmiamo la nostra vita nel lodare nell'amare nel ringraziare nel benedire il nome di gesù cristo del figlio di dio che c'è talmente amati da dare la sua vita per la nostra salvezza parliamo di tante cose siamo abili oratori in tanti discorsi delle volte arriviamo ad avere degli alterchi per difendere delle cause anche giuste ed è buono essere dalla parte del bene è buono o essere pronti a difendere le proprie idee ma soprattutto queste cose dobbiamo essere in grado di benedire con tutto il nostro cuore ma anche con le nostre labbra il nome del signore gesù cristo sì è questo il sacrificio che oggi dio si aspetta non più agnelli che vengono consumati sull'altare non più tortore o focacce così come avveniva nell'antico testamento noi il sacrificio che dio si aspetta sono labbra che confessano il suo nome proclamiamo che siamo per grazia figli di dio proclamiamo che solo gesù cristo è il salvatore del mondo proclamiamo che solo per le sue virtù noi potremo essere accettati da dio proclamiamo questo nome per mezzo del quale ogni malattia è stata vinta proclamiamolo perché non c'è nome più bello non c'è nome più potente non c'è nome più grande del nome di gesù cristo il figlio di dio e io spero che in questa mattina ognuno di noi possa offrire al signore un sacrificio di lode e che questo possa essere soltanto l'inizio perché ogni giorno vogliamo continuare a benedire e a ringraziare colui che vive e regna nei secoli dei secoli la sua pace e la sua grazia sia con noi cari che dio ci benedica e ci accompagni durante questo nuovo giorno